Dopo il protocollo d'intesa stipulato tra il comune di Taranto ed Assonautica, ecco che siamo in un altro momento, in uno step successivo, quello di Assonautica Beach, il sopralluogo appunto in quella che sarà la sede di Assonautica. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, lei si è battuta molto per questo impegno, per questa scelta nel periodo in cui è stata assessore del comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione, la cultura del mare, le economie del mare. Si, hai detto bene, prosegue il mio impegno, il mio rapporto con Assonautica di Taranto, abbiamo stipulato quel bellissimo protocollo dove Assonautica porta i prodotti della mia terra in giro, recentemente Matteo Dusconi che è il direttore di Assonautica Taranto è tornato dalla Repubblica da Praga, proprio dove è stato con l'ambasciatore italiano portando i nostri prodotti, ha parlato delle nostre olive, della nostra terra e quindi questo protocollo esporta la nostra cultura pugliese e tarantina in particolare. Sono molto felice di questo e oggi siamo qui proprio con Matteo Dusconi e gli amici di Assonautica perché si aprirà questo bellissimo punto sul mare e un riappropriarci delle bellezze della nostra città. Forse Luigi, anticamente qui c'era una spiaggia, i nostri nonni e forse anche i nonni dei nostri nonni venivano qui a fare il bagno anni fa, ci riappropriamo di una parte della città meravigliosa che potrà essere un momento di un posto di aggregazione per tutta la città, bellissimo venire a fare un po' la madrina di questo evento. L'alternativa alla grande industria, la vera alternativa a puntare sulla cultura, sulle risorse innumerevoli, immense del nostro territorio. Non ce ne rendiamo conto forse? Ho detto tante volte, il termine cultura significa tutto, cultura deriva dall'etimo colo, cioè fondare qualcosa che germoglia, può comprendere e abbracciare tutto, dalla scienza alla nostra storia. Questo è il nostro mare, riappropriamoci del nostro mare, facciamolo fruire ai nostri cittadini e veramente sono orgogliosa di questo perché c'è gente a tanto che si batte ancora per questo.